Vai ragazzi, se è interrotta la diretta la riprendiamo. Mi ripeto un attimo, sono Celestino dei Singolintour ragazzi e siamo qua questa sera per fare una bella serata qui a Massa Lombarda al ristorante Sul Macino. Questa è la nostra capitale ragazzi, complimenti, siamo qua, siamo in compagnia di questo pesce, questo pesce lesso, abbiamo un ottimo programma, a luna andremo a mangiare anche i bomboloni ragazzi, i mitici bomboloni, andremo all'insolito forno. Vai, benissimo, ecco qua i nostri amici più cari, ciao a tutti ragazzi, buonasera, buonasera, viva Modena, viva la Sicilia, viva Palermo, Bologna, vai, e vai, pure Santa Rosalia, e vai, vai, alla grande ragazzi, alla grande.